Ciao a tutti, oggi siamo qui a Gambolò, siamo in piazza Bellazzi, come vedete siamo seduti su una panchina che è appena stata inaugurata perché è stata inaugurata perché è stata rinnovata, tra virgolette, su un progetto che è partito da Gambolò Vintage, quindi un'idea di Roberta Magnino e Fabiana che ci hanno portato a Gambolò questa, diciamo, innovazione. Cosa voleva fare? Cosa succedeva in questo Gambolò Vintage? In pratica tantissimi privati invece di buttare le cose, cosa hanno fatto? Hanno un po' preso tutto quello che erano nelle loro cantine che si poteva essere riutilizzato e l'hanno messo a questo Gambolò Vintage che si è svolto in castello e ci sarà una nuova edizione anche quest'anno, a maggio, per cui vi aspettiamo comunque a questa nuova edizione. Allora, questa è una delle tante panchine che sono state risistemate, sono state riverniciate dai nostri artisti gambolesi, ma perché? Proprio perché rendere Gambolò molto più vivibile e molto più bello anche da vedere e molto più accogliente, ma questo, io ve lo dico subito, è soltanto l'inizio, ci saranno tante novità e tante sorprese ancora.